Un commento scioccante, Kate con me siamo in Germania, ha fatto brevemente ricomparire una fiamma di speranza nei cuori dei genitori della piccola. La bimba è scomparsa sabato scorso dall'hotel Astor di Firenze e al momento non è stata ancora trovata. I genitori sono convinti che si tratti di un rapimento anche se le forze dell'ordine stanno ancora esplorando tutte le possibilità. A complicare ulteriormente la situazione c'è il commento scioccante sui social, sono con lei ora in Germania, scrivimi in privato se hai bisogno. Questo commento è stato pubblicato da un utente che ha commentato la diretta video della manifestazione in corso in Piazza Duomo a Firenze. Potrebbe trattarsi chiaramente di un mitomani ma le forze dell'ordine stanno indagando per verificare la sua veridicità. Grazie. 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 Grazie.